Benvenuti a questo momento nel quale si va a racchiudere queste giornate del 2014 di questo evento Roma International Estetica, questa è la piazza della bellezza. Per iniziare a introdurre l'argomento di questo premio vorrei chiamare il direttore scientifico dell'evento, il professor Piero Antonio Bacci. Sono presentato come meriti perché sei uno troppo eclettico. Eclettico è giusto dirlo eclettico, siete d'accordo? Stai più indietro se non hai la luce nel viso per le immagini. Così, vai. Fatto apposto perché volevo scappare. Perché volevo scappare? Perché ci sono dei momenti importanti nella vita e questo è un momento importante. Perché è un momento importante? Perché si realizza un percorso. Nella vita ci sono dei corsi e dei ricorsi che sarebbe troppo facile attribuire a Vicono, ma non è così. Ci sono dei momenti, dei momenti che si creano con l'entusiasmo. L'entusiasmo vuol dire entusemos, avere un Dio nel sangue e che in omaggio a quello che dice Paolo Coelio nel suo Guerriero da Luce, Guerriero da Luce, da Lux in brasiliano, che dice se tu credi fermamente in una cosa, tutto l'universo cospira, bellissima la parola cospira, affinché tutto si realizzi. Noi che cosa abbiamo voluto fare qua? Quando abbiamo preso un po' una nuova via per questa organizzazione che caratterizza questo importante sito fieristico, la Fiera di Roma, abbiamo pensato di cercare di dare un'idea nuova, una via nuova, che sia non un congresso fieristico, non un congresso di chirurgia plastica, ma sia un momento nuovo, un momento che omaggi la crisi, crisi è una parola bellissima perché vuol dire cambiamento, non è una parola brutta, anzi la crisi permette anche se qualcuno purtroppo muore in questo periodo, soffre, però occorre tutti cercare di prendere come un'opportunità per cambiare in modo che quelli che soffrono poi non sorridono, non soffrono più. Sta cambiando il mondo, sta cambiando il mondo della bellezza, sta cambiando il mondo dell'estetica, sta cambiando il mondo dell'alimentazione, sta cambiando il mondo della salute, come dice il nostro collega Pierluigi, bisogna, e sono d'accordo, bisogna ristudiare la patologia medica, perché la patologia medica non è più quella che sapevamo noi 50-60 anni fa, io ho sempre lavorato nelle gambe gonfi, nel mesenchima, io non ho mai studiato linfatici perché non c'erano 50-60 anni fa come ci sono oggi, il connettivo 60-70 anni fa era un tessuto di sostegno, un tessuto passivo, oggi da lì si prendono le cellule staminali, sta cambiando il mondo, sta cambiando la conoscenza, sono tutti i momenti di crisi perché qualcosa finisce e qualcosa comincia, l'importante della vita è creare un filo fatto di tanti granellini dove la fine del passato sia l'inizio del futuro in una conoscenza continua, finalizzata a realizzare noi stessi, la nostra bellezza, i nostri ideali, le nostre speranze, ma anche a creare qualche cosa che permetta agli altri di lavorare meglio e di vivere meglio in una qualità della vita migliore. Questa è un po' stata la scommessa di questo per camminare in bellezza, cercare di dare un contenitore nuovo e da domani partiremo il prossimo anno con le gambe il cielo, cioè lavoreremo proprio per creare questo. Tutto questo è dovuto alla volontà ferra di un gruppo di persone qua che io da Toscano ho scoperto veramente incredibili ma anche meravigliose, non sono belle esteticamente ma anche con quella bellezza vera, quella bellezza foscoiana che dice provoca emozione e vorrei ringraziare la direttrice, mi è scappata la nuova, la dottoressa Gerarda Rondinelli, tutto quello che è qua è mezzo suo e del suo bellissimo staff. Soprattutto dello staff e del professor Bacci però, allora vi ringrazio di essere qui però io penso che dobbiamo subito iniziare a dare questi previ perché ci teniamo moltissimo e quindi iniziamo? Sì, allora. Siamo con il premio intanto? Sì. Perché facciamo questi premi? Perché è giusto che ogni tanto noi dobbiamo riconoscere a qualcuno, a colui che ha fatto qualche cosa nella vita ai propri meriti. attenzione, non perché le persone hanno dei grandi curriculum, perché si può sapere anche dei curriculum molto piccoli ma pieni, una cosa sola ma piena della vita, ci sono persone che non hanno curriculum ma sono veramente piene e hanno fatto sorridere tante persone, per cui dobbiamo premiare coloro che si sono impegnati per rendere il loro curriculum reale, non pagine scritte ma vere e devo dire che in questi quattro anni abbiamo visto passare molte persone che hanno omaggiato, secondo me non solamente l'essere medico, l'essere estetista, l'essere professore, ma hanno omaggiato l'essere persona umana, credo che questa sia la cosa principale. Applauso. E adesso siamo sintetici, non t'allargare più dottore, professore, andiamo con il primo dei riconoscimenti, sono stati creati con grande attenzione dovizia, c'è una motivazione molto chiara e precisa, chi è che legge la prima motivazione, lei? Allora, leggi solo la motivazione ma il nome non lo dire, non ve lo ripeto più, allora sappiate che fra loro due sono i più grandi casinisti d'Europa, fai una scaletta, la cambia, lui poi è il più grande giocoliere di scalette, voi che lavorate in tv sapete bene le problematiche, e lei altrettanto, stando con il professore, ahimè, le frequentazioni sono tante. Allora, andiamo con la lettura. Prima motivazione, vai. Per l'amore, l'entusiasmo e l'impegno dimostrato nel sostenere la categoria dell'estetica professionale nell'ambito della sua lunga carriera professionale svolta nella CNA, area metropolitana di Roma, Fira Roma offre a Paola Marta! Allora, è stato dato il primo ritmo, fermo un attimo, venga più in luce. Allora, loro hanno detto una lunga carriera, una lunga attività, la risposta che volevo da lei è scoprire. Nell'esperienza, come oggi è percepita la bellezza da parte della gente che viene in eventi del genere? Ma sicuramente è completamente diversa da 40 anni fa, quando ho iniziato la mia carriera in CNA in questo settore. Era proprio i primi esordi, cioè gli estetisti facevano una sceletta, cose di questo genere. Oggi è cambiata e la bellezza è, non dico al primo posto, ma quasi. Due aggettivi o due termini che lei vorrebbe dare, anche per i giornali, una twittata, no? Per chi dovrebbe fare oggi l'estetista del nuovo millennio, del nuovo periodo. Due caratteristiche fondamentali sono? È un mestiere bellissimo, va fatto con entusiasmo e non dimenticare mai la modalità, che è importante in questo settore. Paola Marta, primo dei riconoscimenti. Vado per ordine ora, non è che vado... Prendiamo il prossimo delle... Non c'è neanche la valletta, cioè ragazzi siete ridotti all'astrico nel senso comunicativo. Claudio, fa la valletta Claudio, vieni qua, hai detto sono una nuova di casa, porta la testa, vieni qua su, tieni, portalo su. Eccolo là, ci siamo muniti, vieni qui in qua, e adesso leggi tu la prossima motivazione. Non voglio essere finto, il professore lo conosco benissimo, gli do del tu per questo, perché non voglio arrecare cose che siano fuori dalla struttura. Prossima motivazione. Per l'amore, l'entusiasmo e il grande impegno dimostrato nel promuovere una nuova etica alimentare nel rispetto della tradizione culinaria ad una persona che ha fatto non tanto della propria professione di cuoco, ma di maestro di cucina, di colui che cerca di dare degli insegnamenti di buona salute che si può fare anche in cucina. Credo che sia molto importante. Premio a Roma International Estetica, Fabio Campoli! Allora, Fabio Campoli, Fabio Campoli ti ha detto, l'hai spiegato abbondantemente anche durante il tuo intervento. Ormai il cuoco, lo chef, non è chef ma è no gastronomo, è qualcosa di molto diverso? Sì, intanto il cuoco è un artigiano, quello che riesce a trasferire non soltanto le competenze che si studiano tutti i giorni, ma anche quello che è lui, la persona. Io sfido chiunque a provare un piatto e cercare di capire chi c'è dietro. Cioè il cuoco è un artigiano vero, però il cuoco moderno deve raccogliere il testimoni di cuochi che hanno fatto grandi sacrifici nel secolo scorso e portarli avanti nel rispetto del commensale. Quindi non solo, come spesso, l'autocelebrazione, ma cerchiamo di fare i cuochi per i clienti, per i commensali, dando loro non soltanto il gusto ma anche la salute e questo è il messaggio di oggi. Quindi provare ogni giorno a fare qualcosa in più, essere curiosi, cercare di prendere tutti e poi trasferire questo valore col cuore, con la passione. La cinquettata che vogliamo dare quindi è buono, goloso, gustoso, sano. Sano io lo metto prima. Nella mia vita lo metto prima perché ho scoperto la bellezza di trattare gli alimenti con quest'amore, con questa passione. Anche per avere qualcosa in meno nel gusto, ma ci sono fa star bene. Fabio Campoli! Grazie. E allora, prossimo... Oh, ehi, collaboratrice, sta qua, non sta là, no? Come? Ok, vieni, questo. Allora adesso ci siamo, siamo invece sul prossimo dei riconoscimenti, sei tu Gerarda che lo leggi? Vai, vediamo un po' di chi si tratta, prego. Si tratta, allora, per l'amore e l'intraprendenza imprenditoriale dimostrata nella realizzazione di una scuola professionale finalizzata alla formazione per dare opportunità lavorativa ai giovani, Fiera di Roma offre a MKC Beauty Academy. Andrea Poe! Allora, emozione? Ah, sei emozione? Un po'. Vuoi mai? La prima volta che ricevo un premio di questo amplore. Ascoltami, secondo te ti hanno premiato perché è stato un tuo percorso nel mondo della bellezza, un percorso, direi in questo caso, legato molto al concetto formazione. Sì, infatti io dirigo questa scuola alla MKC Beauty Academy e grazie alla signora Gerardo ho potuto promuovere ieri un nuovo concorso dedicato proprio al mondo del make-up, e quello che cerco di portare avanti è una formazione di livello internazionale per il mondo del make-up. C'è nel mondo del make-up e della bellezza una possibilità di lavoro per i giovani? Sicuramente sì, ma bisogna partire da una formazione di alto livello. Tre caratteristiche di questa formazione per un giovane? Il giovane che viene da noi deve avere prima di tutto passione, poi deve dedicarsi del tutto a questo mondo e in più c'è la tecnica che deve acquisire. Grazie, anche per te il riconoscimento. Facciamo gli auguri ad Andrea perché è in dolce attesa, tra poco diventerà mamma. Aspetta, fallo vedere il dettaglio per la foto. Ecco, quanti mesi sono? Sei. Sei già, sei una femmina o un maschio? Un maschio. E gli fare fare il make-up artist? Non lo so, vediamo. Ok, vediamo, non è sicuro, d'accordo, siamo certi, grazie. Prossimo dei nostri riconoscimenti, c'è anche il libro, però è quella, sì, la taglia la puoi portare. La motivazione, prego Piero Antonio. Erano gli anni, non mi ricordo, 1982, 3, 4, quando ero una demittente toscana, viaggiava una trasmissione che ebbe un sacco di ascolto a quel tempo, una trasmissione di una delle prime emittenti locali d'Italia, tra l'altro, che si chiamava La salute nel piatto. E contemporaneamente ne girava un'altra che si chiamava Pagine di bellezza. erano due amici che si, così, si intercalavano, uno studiando cosa mangiare, quell'altro più abituato alle forbici, magari al bisturi, cosa togliere. Sono passati tanti anni e quella salute del piatto è diventato un libro, quanti libri, e quella salute del piatto è diventato un altro libro che è uscito oggi, dalle calorie alle molecole. E devo dire, invecchiando, non è passato l'entusiasmo, non è cambiato. Quello che è cambiato drammaticamente è il contenuto, perché la scienza si è evoluta in un modo incredibile. E proprio per l'entusiasmo e per il grande impegno, dimostrato nella diffusione medica e giornalistica, anche nelle trasmissioni RAI per tantissimi anni, della sana alimentazione, nel più grande rispetto della ricerca scientifica. Fiera Roma. Offre a Pierluigi Rossi il premio Roma International Estetica 2014. Allora, è uscito proprio, vedo da parte di Ambo Caditrice, dalle calorie alle molecole, grande lavoro fatto anche nel settore della divulgazione poi per prodotti che vanno alla gente. Io sono sempre più consapevole che l'ignoranza è malattia, cioè quando una persona non conosce rischia di non stare in salute. Quindi tutto ciò che con noi contribuiamo a far conoscere e a divulgare, noi facciamo un servizio pubblico, il medico e soprattutto una persona di servizi. Oggi quali sono le nuove frontiere che sono auspicabili entro i prossimi tre anni? Due frontiere principali è il passaggio dalle calorie alle molecole, quindi nessuna calorie agisce sul DNA. Noi mangiamo le molecole, noi mangiamo energia chimica, noi non siamo una macchina termica, siamo una macchina a idrogeno, quindi c'è una visitazione nuova della fisiologia del corpo umano. La fisiologia è la biochimica del corpo umano applicata alla nutrizione e il grande orizzonte nuovo è la genomica nutrizionale, quindi i modulatori genici, cioè le molecole che sono contenute negli alimenti possono modulare e agire sul DNA determinando una sua espressione genica. La modulazione genica ha spazzato via credenze e modalità di pensiero che ormai appartengono all'Ottocento. Grazie al professor Pierluigi Rossi Vorrei ricordare che questa mattina dovevo essere qui però essendo il nutrizionista della Roma, della Roma Football Club, il professor Angelini è stato premiato stamani e è dovuto correre allo stadio, tra l'altro mi è andata bene perché mi sembra 0 a 0, per noi fiorentini va bene così, però non so per Romani o per i nazionali come è andata. Sì, allora adesso, non ti hanno applaudito per me, così capisci di che storia stai a trattare, lui pensava di essere stato brillantissimo, è a Roma, succede da solo, vero Baglio? Allora, adesso c'è il prossimo dei riconoscimenti ed è qui presente, non andate via, i premiati tutti insieme vi vogliono fare la foto che serve per i giornali, me lo chiedo per favore, vai. Due premi speciali alla fine del nostro percorso, due premi speciali che simbolizzano il camminare in bellezza dell'edizione 2014, il primo ad una persona conosciuta in tutto il mondo, di famiglia di ricercatori, persona giovane che si è conquistato la stima in moltissimi campi, docente all'Università di Catania, più in America, più in America che in Italia, per la profonda dedizione e l'impegno della sua vita caratterizzata dalla rigorosa ricerca scientifica con grandi successi ottenuti soprattutto nel processo di invecchiamento cellulare, per Roma International Estetica 2014 al professor Giovanni Scappagnini. Allora, ha detto Università di Catania, è vero oppure no? Parzialmente vero, in effetti Campobasso non lo definirei proprio sud, comunque sì, più o meno, Campobasso, Molise, sono all'Università di Catania, poi vivo a Catania, quindi la follia è mia. Allora, ho un'esperienza internazionale sulla ricerca, però poi la divulgazione anche in televisione, in quale metodo credi che arriva di più alla gente oggi, cioè quale delle due linee, per la gente comunque? Allora, la mia storia con la RAI nasce dal fatto che loro pensano, almeno c'è stata questa sensazione generale che io fossi in grado di trasferire concetti molto complessi in maniera molto semplice, poi nella realtà approfondendo questo concetto, anche parlando con quella redazione, nessuno capiva cosa dicevo, cioè è solo una sensazione, sicuramente la ricerca a livello dei ricercatori è importante che sia comunicata in maniera molto dettagliata, è importante anche mandare dei messaggi importanti, è anche vero che i messaggi della ricerca spesso sono molto preliminari e quindi a volte innescano anche pensieri sbagliati, cioè non sempre un messaggio positivo generando speranza fa del bene, quindi questo è un argomento molto delicato. Si occupato e specificatamente si occupa dell'invecchiamento? Dell'invecchiamento, qua c'è scritto invecchiamento cellulare, la mia speranza è trasferire l'invecchiamento cellulare, anzi le scoperte collegate all'invecchiamento cellulare, all'invecchiamento in generale e oggi ho avuto modo di fare una piccola relazione nell'ambito, uno dei temi più rilevanti secondo me del mondo della ricerca, questo è un messaggio che posso dire invece con scioltezza, io credo che la cosa più difficile in assoluto per il ricercatore non sia studiare le malattie ma studiare la salute, quando saremo in grado realmente di capire perché stiamo bene penso che avremo colto gran parte dei segreti di come restare poi veramente bene e mantenere una qualità del nostro invecchiamento, io lavoro sui centenari che sono un esempio fantastico di biologia positiva, cioè di soggetti che hanno scappato, hanno evitato le malattie dell'invecchiamento che affliggono invece la società comune, non è un obiettivo semplice, credo che sia uno degli obiettivi più complessi, spesso però è addirittura banalizzato, io credo che la cosa più importante della medicina sia quella di garantire la salute, garantirla fino all'ultimo giorno della nostra vita, quando si va dal medico perché se sei malati già abbiamo fallito posso dire una cosa che io ho chiesto a lui, perché lui ha 50 anni, giusto più o meno? 49 io ho detto ma com'è questi capelli così giovanilisti, perché porti i capelli così mi hai detto? perché così sembra più giovanili quindi anche lui ha attenzione alla bellezza è il primo trucco dell'anti-aging è veramente disponibile, ha detto, io dico delle cose, qualcuno ci crede, qualcuno no ha la teoria del dubbio, il che a me fa impazzire non si potrebbe, il ricercatore per definizione vive di dubbio grazie, grazie professor Giovanni Scappagnini dell'Università di Campobasso Molise, Molise, Molise e allora, questo microfono sembra che me lo dovete dare in la bocca me lo tirate ogni tanto ultimo riconoscimento, prendiamo anche la targa professor Bacci, sì in fondo dei VIP guests io ho un insieme di libri, ma ne potrei avere tantissimi, tanti altri la grande abbuffata e qualche volta la faccio anch'io, devo dire il manuale di nutrizione umana un percorso vero che tutti noi dovremmo leggere ed un altro molto bello che a me affascina il titolo è dimagrire con fantasia e la fantasia è una cosa bellissima perché fantasia è il primo è il primo strumento dell'arte se non hai fantasia non hai arte, non hai futuro e devo dire questi libri me li sono già messi in tasca perché saranno diciamo lo strumento di questa settimana la fantasia ce l'ho è quell'altro pezzo che mi manca che devo vedere che devo fare e devo dire la motivazione quest'anno è importante per il VIP guest per la profonda dedizione e l'impegno della sua vita caratterizzata da una rigorosa ricerca scientifica in un serio insegnamento universitario per una sana alimentazione fermi però la presentazione merita di più io devo dire per presentare una persona così ci vuole una persona speciale vorrei che Silvio Migliaccio venisse a dire due parole perché è la persona più giusta per presentare il nostro premiato grazie Silvio chi diceva che cambia tutte le liste un solo consiglio il nome di lui in fondo così la musica parte precisa perché se no non mettiamo solo il nome questo è l'ultimo scherzo di Piero Antonio le scalette a lui allora è sempre stato uno scherzo tra Migliaccio Signor e Migliaccio Junior che sarei io e cosa dire per me è papà per gli altri è il professor Migliaccio ma è sicuramente come ha detto un serio ricercatore ha insegnato non solo a me che sono una figlia ma ha una schiera di giovani ricercatori che adesso sono diventati i più grandi ricercatori a comportarsi in maniera sempre molto schietta onesta verso le ricerche e soprattutto cosa che molti forse fanno con meno capacità ha saputo insegnare ha saputo anche divulgare perché dobbiamo anche non solo imparare non solo insegnare ma dobbiamo anche saper mandare i giusti messaggi e quindi credo che sicuramente questo premio sia dovuto e quindi io non ne sapevo niente ma ha fatto questo ulteriore scherzo Piero Antonio quindi poi premio International Estetica 2014 al professor Pietro Migliaccio Fotografia prof insieme a loro mi sta vicino al professor in mezzo bravo ok professore posso esordire no non accetto domande no esordivo non soltanto delle risposte e allora perché voglio esordire in un modo diverso ma lei qual è il piatto che gli piace di più professore dopo parliamo del resto posso la panciciana la carbonara allora anche lei è propugnatore del godimento certo ok qui mi trovo in fatiglia io ecco vorrei essere curato da scappagnini fino a cent'anni mangiare le cose che prepara Fabio Campoli sul consiglio di Rossi ben controllato da me ben inteso questa è la mia aspirazione quello che ho sempre fatto avvicinato da Rampoli beh certo questo è fondamentale però controllato controllato da me ecco quello che io ho cercato sempre di fare è di riuscire a comunicare queste cose la parte scientifica la parte grazie a noi che è fondamentale con Fabio abbiamo lavorato insieme sa che abbiamo sempre cercato di operare dei pianti scientificamente corretti se così vogliamo dire ma gratificanti al massimo è questo è quello che diceva scappagnini la difficoltà che noi abbiamo nel riuscire a dire in modo semplice delle cose che noi sappiamo che sono veramente complesse questa deve essere la nostra capacità di comunicatori per arrivare a tutti e perché gli altri possano applicare quello che noi cerchiamo di dire in modo semplice anche se spesso ci capita non so se capita anche a te ma capita a me che delle volte rispetto a quando vado a parlare nei congressi faccio una relazione scientifica mi pare di parlare in modo troppo semplice che sono abituato a parlare radio televisione eccetera e quando parlo alla radio ho il timore di essere troppo tecnico troppo scientifico ecco è questa via di mezzo che ho sempre cercato nella mia vita che cerco ancora di continuare a fare è la cosa che mi diverte che io attualmente vengo invitato da due dei più grossi comici italiani che sono Fiorello e Riccardo Rossi non so se l'avete ascoltato sono veramente divertenti ma anche attraverso questa via riusciamo con Fiorello e con Riccardo nello scherzo a mandare sempre dei messaggi corretti che possono arrivare veramente a sé professore secondo lei dove sta andando questo fra tre anni ho detto c'è un obiettivo sul mondo di una sana alimentazione io penso che dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo attraverso col passato del tempo e sempre di più si è andato affermando quello che è il principio della dieta mediterranea che non è un fatto statico la dieta mediterranea è un fatto dinamico che prende tutto quello che c'è di nuovo che viene costruito dai prebiotici dai nutrici eutici dalla genetica ecco l'UG apprende tutto questo per farlo nostra la dieta mediterranea con il resto abbiamo fatto i suggelati i più infilizzati per entrare in tutto nobilitarli e pubblicitarli in modo che tutti possano stare meglio ma cosa importante che possano godere ma gianto non ce lo dimentichiamo mai questo questo è il professor Pietro Migliaccio grazie proprio i fiori che adesso abbiamo i due deve tornare la sedia e poi torna per la foto stai tranquillo lei è uno che parla parecchio lo so che è anche sintetico oh non lo frena che devi fare i fiori scaletta Gerardo ce l'ha scritto sei scordata è fantastico allora adesso c'è due cose prima di chiudere c'è la foto poi di tutti i premiati insieme per finire in bellezza abbiamo detto che bellezza significa anche solidarietà e in questi due patiglioni quest'anno sono successe alcune cose dirà il campionato delle unghie e spiega cosa sono gli amici del Perù abbiamo come diceva il professor Bacci ospitato e sostenuto due iniziative molto importanti gli amici del Perù e l'associazione Amico Doc perché in una manifestazione come estetica dove si parla di make up nails e anche di temi molto importanti come appunto la medicina e la salute eccetera abbiamo pensato che bellezza è anche questo cioè sostenere queste iniziative e la la pinna di Radio DJ oggi è stata qui purtroppo adesso non è qua perché è dovuto andare via aveva l'aereo appunto alle 18 e glielo faremo avere però ecco Amici del Perù e Amici Doc Amico Doc adesso devo dire che quello che è successo di là è stato fatto anche in favore degli amici dei bambini del Perù quello che è successo di qua è stato fatto anche cercando di costruire delle iniziative che la Olus Amico Doc ha fatto cominciando a sostenere un dramma di questi giorni nell'arte e nella storia il crollo delle mura delle pietre di Volterra se vengono qua i rappresentanti di Amico Doc e degli amici del Perù se ci sono se ci sono sempre gli amici del Perù di Aiti di Aiti invece Perù lo do alla presidente vedo la giornalista sarai Simona Decena il presidente Paolo Mezzana ringrazio amici del Perù e qual è la cosa importante sono due cose molto semplici c'è scritto grazie e il sorriso di un bambino è la più grande espressione di bellezza grazie ragazzi grazie a voi 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 c'è uno spazio inaspettato insomma e anche in un contesto così bello e sorridente quindi speriamo che la bellezza sia qualcosa per far tornare il sorriso a tutti anche a chi è meno fortunato di noi perché ci sono situazioni di cui ci stiamo occupando che veramente rappresentano delle realtà drammatiche da un punto di vista sociale non sono così lontane perché sono proprio molto vicine anche alle nostre abitazioni quindi per far tornare il sorriso non possiamo solamente farci un massaggio o renderci più belli ma dobbiamo pensare anche che il benessere dell'altro sarà anche il nostro benessere e quindi la solidarietà diventa il più grande atto egoistico che l'uomo possa fare perché lo fa per se stesso non lo fa per l'altro perché se chi mi sta vicino sta male io non starò bene noi per portare un esempio diciamo sempre che andare in una discoteca dove sono tutti tristi e tu sei felice e ti deprimi se tu vai in una discoteca dove tutti sono felici e tu sei triste ti diverti e su questo bisogna riflettere insomma facciamo parte di un organismo pluricellulare se vogliamo ritornare alla cellula è il modello della nostra umanità è un modello cellulare come il nostro organismo quindi non dimentichiamolo che insomma far sorridere gli altri farà tornare il sorriso anche a noi grazie 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 ai nostri ospiti e allora grazie voi potete andare vorrei chiamare per favore tutti i premiati di quest'anno per la foto di gruppo se potete venire con o senza l'attestato si lascialo pure non usate la targa in mano se no sembra che si abbiate c'è il professore che è uno che scherza che sarebbe eh ma com'è il prof è un grande vuole stare accanto a scapagnini è che è un po' alto scapagnini però è un po' segaligno come no stringetevi per la luce professore dammi il microfono perché nella foto se no si vede che ha un microfono in mano scusate mettete in mezzo dove manca nessuno in questi fiori per chi sono? io sono un fantasista no? se dici così hai voglia tu però dico sempre quando cambierò preoccupatevi quando perderò l'entusiasmo la fantasia preoccupatevi perché fanno sempre quando anche le regole io credo che finire in bellezza bisogna finire in bellezza rendendo grazie a chi ha permesso tutti io credo che tutti di accordo diamo questo omaggio alla dottoressa Gerardo eccola là diamo la musica che serve a chiudere e chiudiamo con adesso la fotografia Pierantonio stai accanto a loro c'è la chiusura con i premiati di questa edizione 2014 del premio Roma International l'estetica grandi protagonisti del mondo della bellezza legati all'alimentazione e a tutto quello che gravita attorno alla stessa grazie a tutti sigla finale e grande applauso ai protagonisti l'estetica